Una giornata per valorizzare l'archeologia a Scampia. Appuntamento stamattina in via Galimberti dove il gruppo archeologico napoletano ha tenuto una lezione aperta per le scuole della municipalità nei pressi della villa rustica di epoca romana di cui restano gli ambienti di servizio in opera reticolata del primo e secondo secolo dopo Cristo. L'organizzazione ha visto insieme i volontari di Lega Ambiente, Ripuliamo Napoli, Resistenza Antica Morra, Circolo Lagru e delle associazioni Gridas e Noi e Piscinola, alla presenza dell'assessore all'istruzione Anna Maria Palmieri e del presidente della municipalità Angelo Pisani. Con i volontari, con la scuola, col gruppo archeologico napoletano, col comune, si riconsegna alla città un pezzo di storia, un pezzo di epoca romana che non è solo un simbolo ma significa che qui c'è la storia di Napoli. La storia di Napoli non è solo nel centro storico, nel centro antico dove ci sono i reperti ovviamente più famosi e più noti ma siamo disseminati di storia e attraverso la storia, noi preserviamo il presente e costruiamo il futuro.